Eccoci qua cari amici, ben ritrovati su Agronotizie, tendenza per i prossimi giorni, per le prossime settimane. Iniziamo con una fase un po' più incerta, con qualche piovasco al sud, sulle due isole maggiori, sulla Liguria, ma tenderà a migliorare. Fase quindi, guardate, pre-natalizia all'insegna della stabilità, con poche nuvole, pochi disturbi, foschie e nebbie come al solito, ma comunque in compagnia dell'anticiclone. Ma attenzione, proprio nei giorni cluta, ma a Natale, Santo Stefano, dal nord Europa, giungerà aria fredda, quindi giù con le temperature. E attenzione, rischio di nevicate sino a bassa quota sulle regioni settentrionali, soprattutto del nord-est. Poi, vedete, delle nevicate potranno comparire anche sulle regioni centrali, ma a quote medie. Cosa accadrà poi successivamente? Una fase tranquilla, ma che durerà davvero uno o due giorni, perché poi tra il 28-29 e sino alla fine dell'anno avremo, guardate, una nuova eruzione di aria freddina, unita all'aria fredda, preesistente ancora sul nord Italia, potrà dar luogo a delle nevicate. Sino in pianura, al nord, al nord-ovest e a quote medie sulle regioni centrali. Comunque il calo termico si farà sentire un po' su tutta la penisola italiana. Per il momento è tutto, vi ricordo che dal pulsante sottostante potrete visualizzare le previsioni di casa vostra. Arrivederci!